Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Argomento importante, credo interessi tutti i tifosi del calcio e perché no? Tutta la città. Stasera parleremo di stadio con il consigliere Massimo Rizzo, nonché Presidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione Sport, persona attenta, puntuale, attiva, operativa, uno che ci siamo sempre ritrovati nel chiarimento di certe matasse che devono essere dipanate in questa città, almeno dal punto di vista mediatico, c'è sempre stato vicino. Grazie Presidente per essere qui. Buonasera a tutti, grazie a voi dell'invito. Presidente va bene, sì? Ma Massimo. Facciamo così Massimo. Sì, sì, non... Stadio sì? I titoli passano, le persone restano. Ecco, alla gente comune che pensava o pensa che da un momento all'altro questo stadio San Filippo possa arrivare a definizione di assegnazione, nel senso dell'appartenenza, appartiene a te, appartiene a me, io ho vinto, tu hai perso. Come siamo messi? Ce la faremo? Quando ce la faremo? Ma guarda, Ciccio, io se mi permetti vorrei fare un paio di precisazioni che per chi mi conosce sono premesse o precisazioni? Premesse in precisazioni. In precisazioni, ecco. Che per chi mi conosce sono ovvie, però è sempre bene farle, soprattutto... Sempre con animo sereno. Sempre con animo sereno. Perché quando si parla di calcio, spesso gli animi sono, come dire, a proposito di animo, offuscati dal tifo, il che io lo capisco benamente, ma è bene. E' guai se non ci fosse la tifo. Io sono intervenuto pubblicamente un paio di settimane fa sul tema stadio, perché avevo letto dalla stampa che la commissione Ureca, bruttissima cronimo, che sta a significare una commissione che valuta e assegna dei punteggi nelle gare d'appalto o di concessione, aveva concluso i suoi lavori. Dal 16 marzo, credo che fosse questa la data, comunque metà marzo è certo, registravo un silenzio... 2021? E' di assegnazione... No, l'assegnazione provvisoria è questa dell'Ureca. Allora, riniziamo. La procedura è complessa, cerco di spiegarla in modo semplice, ma non è facile. Dico, cronologicamente, ad un certo punto noi apprendiamo che una società, anzi due società, FC e l'altra come era, quelle inglese? Everywhere. Si erano aggiudicati il bando per... Sì, è stata l'unica partecipante, è capofila con FC. La Commissione Ureca, che è una commissione di... praticamente ufficio regionale gare sostanzialmente, assegna dei punteggi e procede alla cosiddetta assegnazione provvisoria. Provvisoria, quindi ha un significato il termine provvisoria. Il secondo step... Che non era circolato all'epoca. Esatto, sì, perché si pensava che fosse concluso un iter. E' aggiudicato. E invece non è così. No, perché c'è poi una seconda fase, quella nella quale versiamo attualmente, in cui, altro acronimo brutto, il RUP, che vuol dire responsabile, l'unico del procedimento, deve compiere delle ulteriori valutazioni, che non sono, come dire, di tipo burocratico, cartolare, semplice, sono degli approfondimenti necessari, che chiaramente sono posti a tutela anche dell'ente comunale. Dico, i limiti dell'accertamento. Certo, deve valutare il piano economico finanziario, deve valutare tutta una serie di elementi. Conclusa questa fase, c'è la firma del RUP, e si passa all'assegnazione definitiva. Noi ancora non ci siamo, a questa fase poi ci ritornano. Dopodiché si apre la terza fase, che si conclude... Al momento in che fase siamo, per capirci? No, al momento siamo nella seconda. C'è il RUP che sta compiendo questi accertamenti, e in particolare, stante la difficoltà degli stessi, ha chiesto aiuto, una consulenza, a uno studio professionale. E la consulenza è stata... Quindi è un passaggio obbligatorio quello del RUP? Passaggio assolutamente obbligatorio, non è obbligatorio chiedere la consulenza, evidentemente ha chiesto la consulenza, perché la materia è complessa, e perché gli accertamenti da effettuare, come direi, sono anche le competenze di un dirigente del Comune. Se si dovesse arrivare alla firma, cosiddetta assegnazione definitiva da parte del RUP, c'è la terza ed ultima fase, che si conclude con la convenzione. Che cos'è la convenzione? È quell'atto, quel contratto, chiamiamolo come vogliamo, che regola i rapporti tra il Comune e la società, in questo caso la società di calcio. Quindi è un contratto in virtù del quale questo rapporto di concessione sarà disciplinato per X anni. Noi siamo invece nella seconda fase. Io che cosa avevo detto? Posto che la valutazione, quella tecnica, da parte della prima fase, da parte della Commissione Urega, si è conclusa, posto che c'è soltanto un partecipante, quindi non c'è, non si sta... Non c'è storia assoluta. Avevo chiesto, mi ero permesso di chiedere, forse è stata intesa come l'esa maestà, cosiddetta trasparenza. Cioè io credo che la questione dello stadio è una questione importante che va oltre anche la passione calcistica che abbiamo io, che abbiamo tu, che hanno migliaia di cittadini, ma è un importante impianto pubblico e addirittura per gli importi che sarebbero in ballo, tolto il ponte, forse sarebbe uno degli investimenti più grossi... Mai fatti a me. Non so se mai fatti, ma insomma, di centinaia, parliamo di centinaia di milioni. Quindi mi sembrava assurdo e mi sembra assurdo che su questa questione, al di là degli aspetti amministrativi... Si sia steso un velo di... E di silenzio. Al di là degli aspetti amministrativi sui quali nessuno vuole e può mettere becco, senz'altro non io, ma non dico, come dire, abbiamo un'amministrazione così sempre sul pezzo, sempre in diretta, sempre a regalarci notizie su tutto e su un aspetto così importante. Io chiedendo trasparenza chiedevo che la città conoscesse a che punto siamo. Anche queste semplici parole... Anche queste semplici parole che io ho detto... Che sta succedendo? Credendo così anche di spiegare anche a un addetto ai lavori in che stato siamo della procedura, quali sono più o meno i tempi, eccetera. Non sto violando nessuna, come dire, nessuna legge, non sto influenzando la procedura amministrativa. Anche le desiderate... Oggi per esempio i cittadini ascoltando questa tua bellissima trasmissione sanno che ci sono tre fasi, in quale fasi siamo, giusto. E io credo che la consapevolezza sia uno dei doveri che chi fa politica, chi amministra una cosa pubblica deve sempre garantire. L'assessore... L'assessore Gallo qualche volta è intervenuto. Ma è intervenuto dopo, perché prima battuta mi ha detto io non parlo, io non so niente, sembrava, sai, le scimmette, io non guardo, io non guardo, non vedo, non sento. Dopodiché siamo alla firma da parte del RUP, che è quasi una formalità, ah, ci sono problemi, sarà chiesta una consulenza, è stato, come dire, un batter d'ali di farfalla. Io credo che i tempi non saranno così brevi, perché chiaramente ora il RUP, quindi il dirigente, per parlare in italiano, leggerà, studierà, approfondirà questa consulenza di cui qualche organo di stampa ha dato delle anticipazioni, probabilmente chiederà degli ulteriori approfondimenti alla società che ha partecipato al bando, non so quanto, se questi approfondimenti poi saranno, ci saranno delle risposte, in che termini saranno, cioè la procedura è complessa, rendiamoci conto che in altre realtà, penso a Udine, penso a Cremona, anche l'avvento su Stadio, eccetera. A Cagliari, a Tavellini. No, no, ma parlo dove si è conclusa la procedura, è durata due, tre anni, parlo di procedura, non di lavori sullo stadio, perché chiaramente, almeno per come la vedo io, se lo dovessi fettere io questa firma, su un impianto sportivo così importante, per importi così importanti, e per un periodo come quello richiesto di 99 anni, cioè saremo in un altro mondo, io, tu, non i nostri figli, i nostri nipoti, e ancora lo Stadio sarebbe assegnato ad una società, è chiaro che tu, la firma va bene Massimo, ci può stare, però dico il silenzio un po'. Il silenzio era quello che dava fastidio a me. Anche da parte del dirigente, dico il dirigente. Ma sai, ma sai Ciccio, no, io sulla scrivania ho un bando provvisoriamente aggiudicato, vogliamo lavorarci su questo bando? Però Ciccio, scusami, scusami, capisco che dici tu, ma il dirigente, il dirigente, deve fare il suo lavoro. Ma chi deve spiegazione a una comunità è la politica, non è la burocrazia. Tenuto conto, fra l'altro, perdonami, che la parte aggiudicatrice, nella fattispecie, il Presidente dell'FC e i suoi collaboratori hanno sempre sostenuto la bontà, la correttezza, la sicurezza. Ma io infatti ci tengo a chiarire che io, ma lo dico veramente, sinceramente, la mia non è una presa di posizione, non è stata, e continua a non essere, non una presa di posizione, nei confronti, ma ci mancherebbe dell'FC Messina. Ma ci mancherebbe, ma tu pensi che io faccio politica, no? Ma ci ce l'ho detto prima che faccio politica, pensi che non sarei, ma soprattutto sono un cittadino di questa città, ma tu pensi che io non sarei contento se in questa città arrivassero fiumi di milioni di euro, che significa investimenti, occasioni di lavoro, oltre la riqualificazione dello Stato e probabilmente dell'area. Ma ci mancherebbe, sarei il primo a fare un plauso, e poi un'altra precisazione che poi mi sono dimenticato, tu ricorderai, perché è una buona memoria, e perché ne avevamo parlato più di un anno fa, che io, come dire, sono, lo posso dire oggi, tra i fautori di questo tipo di procedura del bando, attenzione, cioè non è che le cose poi vanno dimenticate. Infatti questa è la seconda parte di quella politica. Poi io ho delle critiche su come è stato gestito sempre dal punto di vista politico, perché per me il bando dov'essere un'occasione per promuovere la città di Messina e il suo stadio quantomeno sul territorio europeo, cioè attirare investimenti. La informazione nasce nella stesura o nella definizione del bando a origine o in corso d'oro? Si è perso dopo la giudicazione del bando. Si è perso un po' di tempo per la pubblicazione, però anche qui io capisco che... Cioè è stato posto male, dico il... No, non è affatto posto male. Sono stati posti male i termini per la giudicazione di questo bando, secondo te? Guarda, io... ogni cosa in politica e forse pure nell'amministrazione il meglio è il nemico del bene. Certo è, per come è stata un po' gestita l'intera operazione se dovesse concludersi con un nulla di fatto... Che vuol dire? Cioè che per esempio non si assegna a nessuno questo stadio... Un po' un flop sarebbe. Ricordatevi, anzi ricordiamoci che all'altare del bando abbiamo sacrificato i grandi eventi, i cosiddetti concerti. Perché si è detto no, ci sarà il bando, ci sarà l'assegnazione, ci sarà la riqualificazione dello stadio. Quindi se poi un domani ci troviamo senza stadio assegnate privati, i grandi concerti che nel frattempo quando questo maledetto Covid ci permetterà di farli, che già si sono spostati su Catania, dal punto di vista come dire del risultato politico un successo non è stato. E mi sto, come dire, sto usando un efemismo. Ma, ripeto, a me quello che interessava era rompere la coltre di silenzio. L'ombra è fortemente politica o moderatamente politica. L'ombra? Sì, l'ombra su questo... Io credo che il bando doveva essere, qua parlo già al passato, a prescindere dall'esito della procedura, doveva essere un'occasione per cercare di, ripeto, lo sto dicendo prima, di vendere la città, l'immagine della città, del suo stadio, che è l'impianto più grosso dopo Napoli, del meridione, di promuoverlo, più che venderlo, che è un termine brutto, e attirare così dei, come dire, degli investitori certi, delle... questo io lo vedo così un bando, lo vedo così, costruito in modo ancora più trasparente, più alla luce del sole, cioè lo vedo in altre realtà. In maniera che una volta giudicato... Si trattava soltanto di fare i lavori. I lavori. Quando io ho citato l'altra volta Bellino, qualcuno, perché poi Facebook, insomma, qualcuno mi diceva, hai una procedura amministrativa diversa, sì, l'ho capito, ma ora, l'aspetto burocratese ho cercato di spiegarlo prima, ma ora parliamo di politica, che è un'altra cosa. In altri posti mi sembra tutto molto più trasparente. Altro esempio, Milan e Inter, che con tutto il rispetto sia dell'FC ma anche dell'ACR che non ha partecipato al bando. Purtroppo, devo dirlo, da tifoso messinese, Milan e Inter non sono esattamente diciamo FC ed ACR, no? No, Tu dici così perché sei ventino e hai vinto la Coppa Italia e pensi che sai... No, mai, 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 mai. Però, voglio dire, Milan e Inter, come sai, vogliono costruire il nuovo stadio e il sindaco di Milano prima ancora di avviare leader amministrativo, eccetera, sai che l'Inter ha dei, pare, abbia dei problemi societari, ha chiesto garanzie non sul progetto, sul PEF, sul piano economico finanziario, sull'Inter, sulla società che sta vivendo un momento che sta vivendo un momento di difficoltà la questione della Cina, Covid, nonostante abbia vinto lo scudetto. piccolo e nonostante, dico, abbia la, abbia Suning alle spalle. eh, certo, appunto ho detto, con tutto il rispetto, non è l'FC, la Cina. e sottolineati o individuali davvero dal professore Vermilio pare che un argomento di questo genere trovi spazio, a proposito del, dello stadio, eccetera. sembra, certo, il consulente giustamente. Cioè l'accertamento del, che sai, 99 anni, 99 anni, della potenza economica di chi ha vinto il bando. Della solidità, come dire, finanziaria del progetto, pure il progetto, è un progetto che teoricamente in un bilanciamento costi e ricavi dovrebbe stare in piedi per 99 anni. C'è anche da giudicare di quella parte che è andata a vincere questo bando. Sì, certo, allora, sulla carta. Se loro ti rassicurano, sarebbero stati dei pazzi, no? A proporre un progetto di 141 milioni. Ma io non, in queste cose, non so, non mi permetti di dire che sono dei pazzi. Certo, ci sono dei numeri che balzano agli occhi. Cioè, se tu pensi che l'Oventus Stadium, che è in Italia certamente l'impianto più all'avanguardia, come concezione. C'è pure l'asilo nido, per chi non lo dovesse sapere. Quindi lo spazio alle aree commerciali... Quattro ristoranti... Perfetto, il San Filippo da progetto il doppio in metri quadri di aree commerciali. Adibite all'area... Di spazio destinato all'area commerciale. Il doppio dell'Oventus Stadium. Però non è legato a un marchio Quindi non diventerebbe una cittadella sportiva, ma una cittadella in ogni caso. Però non è legato a un marchio internazionale come quello della Juve. Quindi probabilmente è legittimamente non sto dicendo non è possibile farlo, ma un consulente serio dice attenzione ma sta cosa sta in piedi. Ecco che probabilmente la società sarà messa nelle condizioni di dimostrare calcolatrice alla mano sta in piedi anche se non è legato al marchio internazionale. Tant'è vero che obiettivamente dalle sottolineature da quello che dice il consulente sembra... Dalle sottolineature del consulente non esce l'imperativo secondo cui questo stadio in queste condizioni così come a noi a me presentato non si può fare tutt'altro. Questo stadio è fattibile? No, tutt'altro no. No, è fattibile purché si proceda a questi accertamenti. Diciamo che il ruolo del consulente non è quello di dire si può fare o non si può fare. Il consulente fotografa la situazione in modo tecnico e asettico e consegna questa fotografia al dirigente il quale sulla base di questa fotografia firmando dice si può fare non firmando dice non si può fare non so se mi sono a spiegare il compito è come in un processo il consulente non fa la sentenza in qualunque processo il giudice nomina un consulente tecnico il consulente tecnico fa la sua consulenza ma poi la sentenza la pronuncia il giudice non so se... E la parte in causa continuo a ripetere quindi la palla è tornata di nuovo alla comune ma la parte in causa la società giudicatrice che sostiene con sicurezza con fermezza che 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 il progetto sta in piedi che il progetto sta in piedi che possiedono possiede la forza per perché questo progetto possa andare avanti che i partners partners allo Stato diciamo a parte qualche sono dici tu sono citati è citato il termine partners ma non ci sono mai esposti in questo senso no diciamo al punto di vista tecnico no e questo fa sorgere il dubbio ma sai ognuno che partecipa a una gara sceglie e fa delle strategie no poi le strategie possono essere vincente o perdenti io per professore faccio l'avvocato ci può essere un cliente che mi dice che vuole partecipare a un'asta ma non vuole comparire e fa partecipare me no così lui resta riservato assumendosi come dire il rischio poi che come dire la sua assenza dal luogo non c'è una presa di posizione politica imprenditoriale politica senz'altro no ma politica perché politica scusa che senzerebbe un comune che da un lato pubblica un bando quindi esprime sostanzialmente la volontà di volerlo concedere ai privati il fatto della non trasparenza di cui parlavamo prima è stato secondo te voluto o casuale o un atto di indolenza politica di menefreghismo francamente non lo so perché non dipende da me ne ho preso atto io ora si parla ma dico facci caso ora si parla sempre di stadio si parla però i giorni passano anche ora si parla perché da due settimane oggi è uscito il pezzo ne stiamo parlando stasera venerdì ora vediamo quando si arriva no ma c'è stata l'intervista all'assessore prima non ne parlava nessuno una settimana fa io ho fatto l'accesso agli atti che non significa rallentare anche questo mi stavo detto l'accesso agli atti rallenta la procedura l'accesso agli atti non rallenta niente io da consigliere comunale posso andare in ufficio e prendermi tutti gli atti altra cosa e se li posso prendere o chiedere l'accesso no no da consigliere li posso direttamente acquisire ovviamente ci sono atti che posso rendere pubblici atti che non posso pubblicare io non sto pubblicando niente non ho né su facebook né alla stampa eccetera ma questo non rallenta quindi tu questi atti in ogni caso li conosci ho rallentato la procedura il tempo di fare le fotocopie li conosci tutti l'unica cosa che hai confessato che questi atti sono un malloppo di 45 pagine sì una cinquantina di pagine la consulenza una cinquantina di pagine sì in cui c'è cosa in 45 pagine ci sono certamente non solo gli otto punti quelle sono quelle diciamo quelle sono le conclusioni in modo sintetico e prima ci sono sviluppate tutte le ragioni che portano a quelle conclusioni diciamo che le osservazioni critiche diciamo dei dubbi legittimi e critici che il consulente pone sul piano finanziario anche sulle stesse le società che partecipano ma che non significa che la società che intenda può andare avanti può chiarire e superare queste righelle che lettura si può dare a quegli otto punti citati sull'organo cittadino oggi di allarmismo non lo so non sono diciamo degli aspetti secondari cioè non sono come dire manca la fotocopia del documento di identità ecco però sicuramente si parla di fiduzione si parla di fiduzione dopo nella terza fase prima della convenzione ti ricordo detto all'inizio prima della convenzione questo è previsto la società deve prestare una fiduzione pari ora non ricordo se al 10 o addirittura al 15% dell'intero PEF quindi un PEF di 140 milioni 10% sono 14 milioni se non è 20 milioni è 14 milioni di fiduzione quindi chiaramente non è facile per per due SRL diciamo un capitale sociale ordinario ma sicuramente se la società se capiamo c'è l'inghippo di fatto ma i consulenti dice per me non è facile non dice non dico normalmente una fiduzione di questo tipo non dice non ha soluzione il problema no l'FC o può dire no guarda qua ci sono le garanzie bancarie qua c'è tutto lo può fare qualche passaggio si è sbagliato in ogni caso io quello di cui sono come dire sono pessimista sono sui tempi perché per questo io poi sono uscito pubblicamente certo perché sembrava che era questione di ore di minuti quasi lo stadio stiamo per darlo all'FC io credo che un comune diciamo che organizza il lavoro dovrebbe cominciare già a pensare come intanto a giugno ci sono delle partite e credo che la concessione per la CR scade il 31 maggio e a giugno ci devono dispare le partite e quindi già si dovrebbe cominciare a razionare che succede in questi casi e poi siccome questo è anche il mio curio certamente una delle due società andrà in serie C dove le prescrizioni rispetto alla serie D deve fare dei lavori i tornelli l'area della sicurezza ecco io comincerei a ragionare su questo e questo ci deve ragionare secondo me si potrebbe rischiare che ne dica l'assessore Gallo questo aspetto alla politica poi è chiaro che gli aspetti tecnici li fanno gli uffici ma io che sono assessore mi comincio a porre il problema scusate io qua a luglio a giugno ad agosto quando è in questo stato bisogna fare dei lavori chi li fa Rizzo li fa Ciccio Manzo chi li fa diciamo che a settembre fine agosto comincerà un campionato e quindi prima è un campionato di serie C che è un campionato proprio esiste a tutti gli effetti quindi tutti questi lavori credo che non sia prevista neanche qui quindi sia un pessimario male male se non si pensa a queste cose sì perché io ci penserei subito a prescindere ripeto dall'esito della procedura poi quando sarà glielo danno all'FC non glielo danno non è un problema mio io sono qua uno spettatore come tutti i messinesi ma nel frattempo io comune devo cominciare a pensare come io comune io comune io comune in senso l'amministrazione sì sì io amministrazione perché tutto questo non passa dal consiglio comunale sia chiaro devo pensare come mettere le condizioni lo stadio di poter ospitare i partiti in questo caso secondo te l'aggiudicatario è vittima o o distratto no non mi permetto io io dico se l'FC riesce in questa operazione è un'operazione storica la più importante d'Italia perché più grossa che riesca più grossa ci sarebbe stata la Roma ma la Roma credo che abbia rinunciato sì ma stante stante questa situazione come faccio a dire superficiale poi l'operazione va in porto e dici come stante questa situazione perché riesca secondo te io FC che devo fare con tutto l'affetto del mondo forse è stato superficiale che sui tempi pensare che sia come quella trasparenza di cui tu hai hai sottolineato l'esistenza la società di cui sopra la scena da passare perché anche loro no ora hai reagito dopo dico ora però rispetto all'agjudicazione del bando passavano i mesi probabilmente avrebbero avuto delle rassicurazioni da parte di qualcuno qualcuno che abbia giocato sporco ci sarà stato a me la trasparenza non me la deve garantire l'FC Messina a me la trasparenza non la deve garantire la mia amministrazione comunale l'FC Messina non ha nessun obbligo nei confronti della città perché non è stata eletta dalla città nel momento in cui si aggiudica è un privato è un privato che fare le scelte un bando anche provvisorio il provvisorio prende corpo anzi in questo senso provvisorio vuol dire muoviamoci vediamoci da fare questo è provvisorio quindi andiamo andiamo ad operare in questo senso lo so però qualcuno avrà giocato sporco secondo me non lo so non lo so c'è la mancanza di trasparenza di trasparenza io quando io non so se qualcuno ha giocato sporco quando non capisco le cose dico perché io non posso capire tutto però quando le cose non sono trasparenti io sempre come dire mi dà fastidio ecco ma non solo sullo Stato ora perché stiamo parlando di Stato e ad oggi questa tua esigenza di trasparenza ma vedi che comunque ha messo in modo riscontro ma vedi che ha messo in modo un meccanismo tant'è vero che sei qua che ne stiamo parlando no nel senso che comunque c'è un consulente che ha fotografato la situazione in modo professionale perché lo fa per lavoro e quindi lo fa perché è tifoso lo fa perché è professione e quindi giustamente ti dice quale sono le criticità quindi consentirà al privato di superare le criticità consenta all'amministrazione di valutare queste criticità e se le stesse saranno superate insomma bisogna lavorare ma dove cominci cioè tu pensare di avere un approccio su un'operazione che dal punto di vista amministrativo imprenditoriale finanziario economico dove cominciare questa materia è più importante in Italia e pensare di rattarla come la concessione per una bancarella ah vabbè c'è una procedura in corso no perché io come dire ho fatto l'esempio del sindaco di Milano che già oggi dialoghi in una fase pre come dire concorsuale mi viene da dire dialoga con l'Inter e chiede sollecita l'Inter a dare garanzie io mi sarei aspettato lo stesso perché sei chiaro l'operazione San Filippo è superiore a quella di San Siro sì ma anche come importa è pari all'ovimento su Stadimo superiore a Udine anche in termini di importo no no di importo sto parlando superiore pari all'ovimento su Stadimo superiore a Cagliari superiore al Sassuolo Mapei Stadimo forse ha giocato negativamente superiore all'Atalanta l'Atalanta se l'è comprato sì 35 milioni ha dovuto giocare per anni al Mapei Stadimo 35 milioni quindi noi qua parliamo di un'operazione da 144 milioni rispetto a un'operazione di queste come dire sto là come dire il buco nero il buco nero non ti dico quotidianamente ma periodicamente dico agli uffici senza interferire volendole individuare il buco nero dove andiamo a cercare secondo me non c'è un buco nero i tempi sono anche fisiologici il buco nero è nell'avere sottovalutato e quindi esternato a livello comunicativo come se fossimo arrivati vicini al traguardo secondo me questa trasmissione non so quando andrà in onda magari sarò smentito e fra una settimana lo stadio sarà segnato da stasera che è venerdì secondo me i tempi per ragioni fisiologiche di studio di approfondimento eccetera non saranno così brevi e quindi secondo me avere messo avere fatto questa comunicazione come dire errata ha creato tutta una serie di tensioni e crea tensioni in chi come dire mettiamola solo dal puntista calcistico crea tensioni nei sostenitori dell'FC che dino ma come perché non ci sta dando lo stadio tensione negli altri sostenitori invece bastava dire signore la procedura è complessa è articolata bisogna fare osservazioni bisogna fare approfondimenti ci vuole il tempo che ci vuole comunque state tranquilli che chiunque andrà in serie C sarà messo nelle condizioni di intervenire sullo stadio e ottemperare le prescrizioni previste per giocare il campo di serie C io non credo che la comunicazione sia stata fatta in questi temi ecco perché sono voluti intervenire perché dice perché non dobbiamo dire la verità alla città non si tratta di interferire sulle procedure amministrative alla città va detta che la procedure è complessa è complessa intanto io comune ti metto in condizioni sia all'ACR sia all'FC una delle due mi auguro posso credere vincerà il campionato tu la serie C la giocherai a San Filippo io ti metterò nelle condizioni la giocherai in questo San Filippo con i lavori del caso esatto richiesto tutto quello che devi fare per giocare da una lega che non è quella di lettare la procedura segue questo corso io vigilo sugli uffici perché comunque è una procedura importante e la città comunque avrebbe pensato soltanto agli aspetti sportivi quindi abbiamo innescato uno stato di concessione dopo la scadenza del contratto con ah lo so che vuole fare il comune quando è trattuna maggio scala che succede dopo glielo ridà alla CL glielo dà le FG se lo tiene il comune a chi deve bussare glielo dà Massimo Rizzo ma questo lo devi chiedere all'assessore e all'amministrazione io questi problemi pongo pratici perché a giugno ci sono partite giusto dal primo giugno chi lo gestisce ma io gestisce non intendo chi lo apre lo stadio chi la taglia l'erba chi li lava e a metà costo riparto un campionato di professionisti e prima forse c'è la Coppa Italia credo devi fare i tornelli l'area della cosmi la sicurezza tutta una serie di prescrizione che la Serie C ti richiede perché comunque è un campionato professionistico a tutti gli effetti il primo diciamo dei campionati professionistici io non me lo do oggi quasi fine maggio era di maggio poi c'è una canzone quindi io questo io questo mi ha fatto un po' nervosire perché sembrava fossimo sul punto di il paro delle navi la bottiglia di champagne rotta sul cancello quindi tu politicamente o non politicamente come agiresti in questo senso io intanto risolverei quello che io amministrazione posso risolvere direttamente e quindi questa questione di giugno delle partite di giugno e dei lavori da fare per il celeste chi li deve fare come si devono fare chi li deve pagare e così per il celeste per il sanfilippo sono talmente affezionato al celeste quella è un'altra sono talmente affezionato al celeste che è stato come dire un qui pro quo come dire quasi di cuore poi sulla procedura avrei detto dall'inizio quello che mi sto permettendo di dire io oggi al rischio di essere smentito ne so dopo domani può succedere che i tempi non li vedo così brevi io ma proprio ma non li vedo così brevi comunque non talmente brevi da non mettere il comune come dire nel pensiero di cominciare ad organizzarsi ma per via del perché l'impianto è comunale non è l'impianto l'impianto è del comune di Messina non li di brevi per via del per via della complessità della procedura per via delle fotografie che ha fatto il consulente e anche per via delle fotografie che ha fatto il consulente per via che come dire che se la società chiaramente dovrà essere messa nelle condizioni di superare queste criticità sei in grado di superarle e non è che le superi come dire con un fax o con una mail e poi superate queste criticità diciamo con delle argomentazioni concrete documentali il dirigente il RUP di cui sopra dovrà rivalutarle non so come la valuterà l'evolatore positivo conclusa questa seconda fase si apre la terza fase qual è la terza fase? l'hai citata all'inizio? la convenzione deve fare il contratto che va preceduto dalla fiduzione ma lì mantenendo questi tempi dico è che è una fiduzione del 10 o 15% del PEF del piano economico finanziario quindi a naso sono 14 20 milioni non è una se tu pensi tutto questo si chiude entro il 31 maggio io sarò il primo a battere le mani a tutti i protagonisti della vicenda andare alla ricerca di colpevoli non conta niente io quello che mi ho voluto evidenziare con i miei interventi pubblici è ripeto la comunicazione che è stata ingannevole sicuramente in buona fede ma è stata ingannevole tu sei stato critico con l'assessore mi pare in qualche passaggio sullo spogatorio l'assessore è stato pesante nei miei confronti sullo spogatorio io ho chiesto io ho chiesto trasparenza lui ha detto che non chiedere trasparenza in questa fase significa interferire sulla procedura amministrativa e fra l'altro l'assessore in quel mini video non volendo dire ha detto tutto ha allarmato tutto quello avviene dopo lui aveva poche idee e confuse e le ha esposte anche peggio poi evidentemente qualcuno gli avrà spiegato intanto che non era una gara d'appalto ma è una procedura concessoria di tipo europeo e quindi poi ha fatto quell'intervista dove dice io non so niente però se non ci fossero stati problemi il RUP avrebbe firmato cioè la trasparenza è trasparenza non è che fai capire se tutto fosse stato tant'è che poi c'è la reazione dell'FC Messina quindi evidentemente anche la comunicazione con l'FC Messina non è stata come dire cristallina e trasparente evidentemente se ha avuto questa reazione così piccata il presidente la società evidentemente gli era stato fatto comprendere siamo arrivati stiamo firmando preparate lo champagne io non la vedo così per questo ti dico qualche passaggio sporco ci sarà stato o deviante o depistante chiamalo come vuoi tu eh sì qualcuno diciamo non è stato messo nelle condizioni di capire è la città per prima è la città per prima io per questo mi sono innervosito perché il mio ruolo fino a quando lo farò sarò quello di come dire far capire a tutta la città qual è lo stato delle cose alla città c'è da far capire innanzitutto che è un meccanismo infernale che investe tutta la città e non le due squadre di calcio ma quando mai ma quando mai quali due squadre di calcio questo è un bene pubblico forse il più importante che abbiamo in città sicuramente mi arriveranno messaggi il più importante è quello o quell'altro un'operazione da 140 milioni citatemi un'operazione da 140 milioni che c'è stata negli ultimi anni citatemela trovatemela e tu rispetto a questa cosa la tratti come se fosse ripeto una squiglia va bene abbiamo fatto tante quest'anno ma il primo un bando europeo che solo scriverlo solo la pubblicazione se non ricordo male del bando costava 18 mila euro la pubblicazione è una procedura complessa è un bando che tu per primo come idea mi piace perché sono stato un fautore e abbiamo fatto pure l'emendamento in aula sullo schema di convenzione se non ricordo male con Nino Interdonato se non ricordo male se non ricordo male Nino Interdonato sicuro forse c'era curataria a rotolo vado a memoria perché parliamo di due anni fa ma ti ripeto per me il bando deve essere l'occasione per promuovere Messina e la sua città io dico nel mondo forse sono pazzo ma certamente in tutto il territorio nazionale cioè tu devi andare con il bando in mano col quale dimostri che effettivamente la tua volontà è quella di concederla ai privati ma se è provvisore come dicevano no il bando siamo ancora alla prima fase il termine provvisorio sposta un po' l'ago della bilancia è provvisore quello lo dice la legge perché dico se è concluso lo sento dire a te per la prima volta io pensavo che fosse un bando definitivo vinto dalla società X non è che il bando è definitivo la procedura prevede una prima assegnazione provvisoria che è quella che si ha alla conclusione dei lavori della commissione URECA e questo ha c'è stato e questo me l'hai spiegato ma non è che è la legge che dice questo poi si apre questa seconda fase perché ci vuole la firma del procedimento che chiude la seconda fase e noi ancora non l'abbiamo chiusa perché il responsabile del procedimento ha chiesto i carimenti al consulente dopo la firma eventuale del RUP responsabile unico procedimento si apre la terza fase che probabilmente sarebbe la più breve cioè la società la giudicatrice presta la fiduzione e firma la convenzione col comune capisci bene che la convenzione per quanto dovrà essere redatta su uno schema di convenzione che ha approvato il consiglio comunale due anni fa ma è un contrattino di locazione di un appartamento di 20 metri quadri quindi è un vero e proprio atto pubblico che dovrà essere fatto immagino dal segretario generale se lo dovrà studiare a sua volta pure il segretario generale se a voi tutto questo sembra una procedura breve io vi invidio io non la vedo una procedura breve ma ti ripeto la strada il primo cittadino il consiglio comunale che incidenza ha il consiglio comunale non passa non passa dall'aula minimamente minimamente il primo cittadino ti ripeto che è un grande comunicatore che ci fa sapere tante cose la commissione sport no no in aula non passa più niente porta chiusi non passa perché questa procedura ripeto ora c'è il RUP con dirigente e la convenzione la firma non il passato all'aula ma già il dirigente che non ritiene opportuno per sua anche carenza di informazione per preservarsi dai certi rischi che ci possono essere non crea già allarmismo all'epoca ma questo è fresco di aprire il fatto che un dirigente non vada a firmare un bando che tutti ritenevano o ritengono già giudicato ma l'errore è nella seconda parte quella cosa che hai detto che tutti credevano già giudicato è là l'errore è quello l'errore quindi l'inghippa è proprio lì tutti credevano già giudicato secondo me sì secondo me no secondo me è là l'errore perché la procedura è complessa io non voglio non mi sento di gettare la croce addosso a chi vuole approfondire perché sarà che mi sono formato con lo studio io prima di fare esami comunque studio leggo rileggo quando facevo esami rileggo approfondisco poi rileggo di nuovo e capisco una cosa diversa finché se devo firmare una concessione di 145 milioni potremmo anche andare a chiudere abbiamo detto tutto siamo qua in vigile attesa come per il corte come per il corte ti resta dire qualcosa? no a me non mi resta chiederti niente no io dico ripeto questa è una questione molto grossa molto importante che è sulla dalle fosse in mano tua questa vicenda a livello di responsabilità effettiva l'unica cosa che veramente avrei fatto in modo diverso ripeto è la comunicazione io credo che una città la città è la comunità sportiva ripeto l'operazione è talmente importante che riguarda tutta la città no la comunicazione deve essere sempre chiara e trasparente è come se io a un cliente dicessi tranquillo entro 15 giorni è tutto a posto e poi dicono no sa non sono 15 giorni sono 6 mesi no sa non sono 6 mesi sono un anno quello dice avvocato scusi però mi dica la verità no io avrei detto da subito vedete che la procedura altro che una siamo alle ultime formalità siamo proprio nel cuore della procedura siamo nella fase in cui l'ente comunale lascia stare Ruppa con il comune quindi il pubblico sta valutando la congruità dell'offerta e siccome non è un'offerta di un pacco di noccioline io come dire sarei altrettanto prudente in questa valutazione consulenti chiarimenti approfondimenti perché è un bene pubblico di tutti quindi siamo nel cuore della procedura che è la parte forse più delicata più importante e che ognuno si prende tutto il tempo che è necessario prendersi quindi comunicare all'esterno ai tifosi ai cittadini stiamo finendo siamo arrivati preparate lo champagne che lo romperemo la bottiglia lo romperemo contro il cancello di San Filippo per me è ingannare la comunità ecco perché ho sentito l'esigenza di intervenire qualcuno l'ha presa contro l'FC Messina assolutamente no sarò il primo a battere le mani all'FC pubblicamente se l'operazione andrà in porta e porterà 145 milioni alla città gliele batterò da cittadino da amante del calcio e da consigliere comunale è l'ordine che voi preferite ci siamo non sto facendo gli interessi di nessuno se non quelli della comunità che vuole sapere i tempi anche per non pensarti ecco però dice guarda sta cosa se ne parla fra un anno va bene nel frattempo io mi seguo l'FC mi seguo la CR faccio il tifoso e via le tue perplessità perché si rilevo delle perplessità e un po' di pessimismo anche andiamo a puntare sui tempi o sulla fattibilità dell'opera beh io qua senza 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 rivelare nulla di misterioso è chiaro che se ci sono delle delle criticità oggi non è fattibile se poi la società e chiaramente riuscirà sono criticità o sono indicazioni no sono criticità che rileva nell'analisi di tutta l'operazione poi sicuramente la società sicuramente se la società sarà in grado di superarle chiaramente superarle non con un'intervista superarle documenti alla mano e allora l'operazione può diventare ma per te i tempi resteranno lunghi ma perché sono criticità diciamo ci sono quindi è chiaro che ci vuole pure il tempo non lo so la società è brava le supererai in un giorno non lo so se una società normale le supererai in un mese non è quanto arrivi poi non so se il dirigente gli assegnerà un termine da qui in avanti qualche problema certo non credo che per il 31 maggio che se non ricordo male la scadenza per la cr diciamo da qui in avanti relativamente anche agli impegni che la messina calcistica io fossi stato assessore avrei detto scusate la procedura ha i suoi tempi perché è una cosa importante il dirigente deve avere il tempo di studiare il consulente deve avere il tempo di fare la sua consulenza e la società legittimamente deve avere il tempo necessario per superare queste criticità giusto e frattempo state tranquilli che quando scadrà il termine di questa concessione della cr il comune nominerà un custode penserà alla manutenza del campo e farà una operazione di bilancio e farà i lavori necessari per la esericazione oppure la giudicazione di quel provvisorio di cui sopra di quel bando provvisore l'assegnazione provvisoria non le metti in possesso dello stadio no lo stadio se il 31 maggio vado a memoria scade la concessione per la cr il primo giugno ritorna nelle mani assolutamente no ma è pure giusto è pure interesse alla società magari la società ci spende soldi poi non c'è l'assegnazione definitiva che fare quindi il primo giugno il San Filippo sarà nelle mani del comune primo giugno è fra dieci giorni undici dodici oggi è venti quindi il pessimismo io penserei a questo siccome l'assessore dice giustamente che giustamente questo lo condivido che non si interferisce sulle procedure amministrative pensa a quello intanto che tu puoi fare come assessore avvalendoti degli uffici ci mancherebbe perché lui ci tiene tanto a separare le distinzioni politiche e amministrazione ma dico è una scadenza importante oppure poi dovremmo inseguire comincia poi il nuovo ah dobbiamo fare entro il 20 luglio i tornelli i GOS il nuovo manterboso vabbè che abbiamo già perso i concerti quindi non c'è pericolo non abbiamo non siamo inseguiti da nessuno ammesso che si potevano fare col covid ma io dico programmare non sarebbe male no io credo Nino Fama grazie per per quanto abbiamo realizzato stasera credo che anche la gente ci possa ringraziare perché abbiamo qualche punto l'abbiamo chiarito speriamo 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 abbiamo chiarito non credo io voglio che si chiarisca e ripeto e questa è una cosa importante che deve andare oltre lo spirito di appartenenza diciamo del tifoso tifosi dell'FC tifosi dell'ACR sono anzitutto cittadini messinesi e credo che abbiano il preminente interesse a che le cose siano fatte per bene senza interferenza e con trasparenza senza interferenza ci manca noi non vogliamo interferire ma vogliamo soltanto raccontare e far sì che quello che il consigliere Rizzo in maniera molto puntuale fin qui ci ha volvoluto far capire potuto anche anche potuto potuto far capire certo per via della sua accertata competenza grazie a tutti voi incontri della prossima settimana buonasera a tutti lo malo stadio ancora non ci sarà la prossima settimana parleremo di altri problemi grazie a tutti